Comunque ci voglio parlare, dovrebbe essere in zona comunque perché dice di 5 sarà questa? Quella è la chiesa, sì, Sant'Ultarico è questa. Allora vado a vedere, che qua è dove c'è l'exo, c'è anche una lapide che ti dice che qui c'era il teatro di Parma Questa cosa mi interessa, tempo umano, la piazza Le Borre, ok, ce la presento. Sanna, hai visto cosa aveva fatto? Allora, lo sai da questa nostra tecnica? Al numero uguale corrisponde il luogo. Ristoranti, segnalati, bisogna che abbiamo una storia di questa qua. Io l'ho presa apposta perché ho detto che i GIC proprio saranno 4 o 5, Allora, guardate, 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 guardate.